Buongiorno, ben svegliati e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Di Prima Mattina Estate su Super J. Un buongiorno da parte mia e da parte di Pietro Baldassarre in regia. Venerdì 19 giugno 2020, stiamo concludendo la venticinquesima settimana dell'anno, 171 i giorni trascorsi dall'inizio di questo 2020, alla fine ne mancano 195. Ovviamente col passare dei giorni, ieri per esempio è stata una giornata importante in Abruzzo perché non si sono registrati casi su numerosi tamponi effettuati. Andremo a vedere anche con la rassegna stampa che si parla di coronavirus perché ovviamente è l'argomento principale, ma si trattano anche altri argomenti. Stiamo un po' uscendo dalla fase emergenziale. Iniziamo subito dalla rassegna stampa con il centro, non prima di avervi ricordato ovviamente che nella seconda parte, come di consueto in questo format di Di Prima Mattina Estate, parleremo di sport con Roberto Marchione, che sarà collegato con noi via Skype, l'addetto stampa del Castelnuovo Calcio. società, giunta la terza promozione di file, i campionati non sono conclusi, però c'è stata la decisione perché la formazione roverde del patron di Flaviano era al primo posto in classifica quando i campionati sono stati sospesi. Iniziamo subito con la rassegna stampa, con il quotidiano Il Centro, il titolo di apertura, malati di Covid curati a distanza, ASL di Teramo parte la telemedicina, potenziati anche gli ambulatori e poi nella fotonotizia i concorsi pubblici con le date di scadenza, scuole, comuni e ASL, posti di lavoro in Abruzzo. Imprese e fondi per 5,6 milioni in Abruzzo, il nuovo bando in regione, Mare Giovane Abruzzese crea l'app Anticode, ordini al bar dalla spiaggia, siti archeologici aperti, tre giorni dove andare in Abruzzo, gli appuntamenti perché ovviamente adesso col passare dei giorni c'è più voglia di uscire fuori, magari restare nel proprio territorio, però di fare magari qualche escursione, quindi il Centro propone questa pagina che andremo a vedere fa qualche istante. Picchia la madre trovata con l'amante, a Teramo è successo, le rompe un braccio con una mazza da baseball, arrestato un trentenne. A Martinsicuro, addio a Don Giacomo Novelli, è stato parroco per oltre mezzo secolo, oggi i funerali. Sempre a Teramo, il Tribunale, licenziamenti illegittimi all'Atria e poi ovviamente il calcio perché si avvicina l'ora dei play-off per il Teramo che prepara proprio l'assalto ai play-off. Per quanto riguarda il Centro, ovviamente l'apertura è sempre dedicata al coronavirus, ma si parla di fondi alle imprese, micro, piccole e medie aziende, dieci giorni per chiedere finanziamenti dopo Covid. La Regione pubblica un nuovo bando da 5,6 milioni di euro, dal prossimo 2 luglio sarà possibile presentare le domande. L'assessore Febbo, il nostro obiettivo è però quello di raddoppiare nei prossimi tre mesi la dotazione finanziaria. Le 15 misure di salvataggio che aiutano a ripartire presto dai prestiti veloci con istruttori a semplice a quelli garantiti da Sace per 6 anni va de Mecum del Consiglio Nazionale dei Commercialisti per i decreti Cura Italia, Rilancio e Liquidità. Quasi 78 mila le assunzioni previste dal concorso scuola, i posti in Abruzzo sono 660, a poste italiane circa 17 mila portalettere per le sostituzioni delle ferrie estive, altre occasioni a Sulmona, Castel di Sangro, Teramo, Chieti e Pescara e c'è tutto un va de Mecum per chi fosse interessato. E poi le idee che sono maturate in questo periodo di coronavirus, Luca, giovane inventore dell'app che evita le maxi file in spiaggia originario di Casalanguida in provincia di Chieti, vive e lavora a Manchester. L'idea gli è venuta a Fossa Cesia, lui racconta con questo dispositivo puoi ordinare bevande e pranzi da sotto l'ombrellone. L'applicazione è gratuita e già utilizzata in Abruzzo e Puglia. Santo Vito ha l'idea assieme a un amico esperto in informatica che ora la sta perfezionando. Non solo questa, perché c'è anche una app per gli agricoltori con meno di 40 anni, c'è l'Oscar, l'iniziativa di Coldiretti, come partecipare, ovviamente ci sono le modalità appunto per partecipare. Ancora una volta, nessun nuovo caso di contagio, come dicevamo, l'epidemia in Abruzzo, ricoverati in tutta la regione, scendono a quota 60, nelle ultime ore si registra un decesso, è un ottantenne di San Giovanni Teatino. Gli esperti raccomandano, rispettando le misure di prevenzione, sarà possibile trascorrere un'estate serena. Da oggi a domenica, tre giorni per scoprire gioielli abruzzesi, la fase 3, l'archeologia, con visite guidate. Proseguiamo con il quotidiano Il Centro, restiamo sempre a situazione in Italia, l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, contro i tifosi del Napoli, festeggiamenti da sciagurati. Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, attacca la folla azzurra, Salvini si scaglia contro il governatore della campagna, che ribatte, è un somaro, geneticamente puro. Queste le polemiche per la festa del Napoli, dopo la Coppa Italia, vinta i danni della Juventus. Aumentano contagie vittime, callano i malati, questa è la situazione per quanto riguarda l'Italia, e poi la Federazione Italiana degli Editori presenta le proposte per il rilancio dei giornali. Mattarella all'attacco delle toghe, e duro richiamo nei confronti di una magistratura preoccupata di costruire consensi a uso interno. Proseguiamo col quotidiano Il Centro e andiamo alla cronaca di Teramo. Malati di Covid, via alla telemedicina, potenziate le attività sul territorio coordinate dal Lucat, nascono ambulatori per adulti e bambini, rivolti anche ai turisti. e per Claudio Damarrio, per il nuovo ospedale, puntiamo sui fondi del Messe, ma non chiudiamo ai privati. Mautenzioni alla ASL, 100 posti in bilico, allarme di FIOM, CGL e FIM, CISL, sull'appalto che scade a luglio. Non si sa che fine faranno i lavoratori. Parliamo di vertenza sul lavoro, Atria, illegittimi, 20 licenziamenti, dopo tre anni arriva la sentenza, il Tribunale dà ragione ai lavoratori che hanno fatto ricorso nel 2017, quando furono mandati via. I sindacati si sarebbero potuti evitare, anche perché subito dopo sono state fatte assunzioni. E poi la notizia che arriva da Bellante, anziano si toglie la vita in casa, si è lanciato dalla finestra dell'abitazione in cui viveva con alcuni familiari ed è morto poco dopo un volo di qualche metra. È successo nella mattinata di ieri a Bellante a mettere in atto il gesto estremo un uomo di 88 anni, un ex autista di scuola, busse con un passato da musicista nella banda del paese. I funerali si svolgeranno oggi alle 16. Pietra Camela, pagamento del Limo, rinviato a settembre e poi andiamo avanti con la cronaca di Teramo. Scuola in pensione 226 tra docenti e personale ATA, allarme della CGL, via Capuani, protesta dei commercianti, non c'è solo il corso, i negozianti incontrano l'amministrazione chiedendo misure per migliorare il decoro della strada dove lavorano e poi ancora per quanto riguarda i lavori, in un certo senso, sia gli arredi per Corso San Giorgio, avviata la procedura di acquisto. Scuola via Diaz, indirittura d'arrivo l'eliminazione delle barriere, e ancora a Bellante, decisamente una notizia diversa rispetto a quella precedente, si epi a rischio, fusti rovinati con il decespugliatore, proteste a Bellante. Incontro sull'ospedale Mazzini, un altro sì per il nostro comio a Villa Mosca, il vicepresidente del Consiglio regionale Sant'Angelo d'accordo con i comitati di quartiere. Siamo ancora a Teramo, è la notizia di apertura, quella che avevamo letto in prima pagina, botte alla mamma, sorpresa con l'amante, il figlio aggredisce con una mazza da baseball e le rompe un braccio, ferito l'uomo, denunciato per lesioni aggravate. In Corso San Giorgio molesta negozianti e picchia i poliziotti, arrestato Pinetese, di 46 anni. Ragazzino annegato, chiesta l'archiviazione, la tragedia di Momo, il PM scaggiona due bagnini per il terzo deciderà la procura dei minori. Ricorderete tutti la storia di Momo, Mohamed Elomari, per tutti Momo, il 14enne marocchino da anni residente a Teramo e annegato a Giulianova lo scorso anno, a distanza di un anno dalla tragedia. È arrivata questa di fatto sentenza. Tirocini formativi, iscrizioni prorogate all'8 luglio, progetto Spazio Lavoro Futuro e poi una fotonotizia che ci descrive, ci illustra la visita del prefetto ai vigili del fuoco incontro nella caserma di Via Diaz. C'è il prefetto Angelo De Prisco e il comandante provinciale dei vigili del fuoco Massimo Barboni. Martinsicuro muore l'ex parroco per mezzo secolo guida spirituale. Don Giacomo Novelli aveva 89 anni nella chiesa del Sacro Cuore. Era punto di riferimento per tutti. Il sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, una bellissima figura che ha accompagnato generazioni di cittadini. Oggi si svolgeranno i funerali. Ombrelloni degli hotel sulle spiagge libere al Badriatica sono 156 quelli autorizzati dalla Comune nell'ambito delle nuove norme anti-Covid. E poi a Martinsicuro sempre perché un branco di delfini è stato avvistato davanti al porticciolo. A Nereto invece in Val Vibrata ceduta all'ANAS la bretella della zona industriale. sono già iniziati i lavori di sistemazione come si possono vedere le due foto. Dramma in ospedale siamo a Giulia Nova. Il pubblico ministero tragico errore processate la figlia. La procura firma la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio colposo per la donna accusata di aver sbagliato. Flebo alla madre. Dopo quello su Piazza Dalmazzi il Comitato Lido chiede un forum anche per Piazza Dalla Chiesa. Restiamo sempre a Giulia Nova perché la spiaggia per ragazzi autistici non risolve nulla. La presa di posizione da parte di un genitore il padre di un ragazzo autistico Nicola Cericola e poi sempre in tema di spiagge perché domani ci sarà la riapertura di Unica Beach la spiaggia per animali da compagnia. In breve nuova ordinanza per i mercati rionali firmata dal sindaco Ivan Costantini e la protezione civile riconsegna i termoscanner che sono stati usati nella stazione ferroviaria ricorderete scusate nel periodo di maggiore emergenza c'erano i volontari della protezione civile e la stazione ferroviaria per controllare tutti coloro che arrivassero o meno a Giulia Nova. Affidati i lavori lungomare e spiagge libri ripartono le manutenzioni qui ci siamo spostati a Roseto e poi al via le opere anti allagamento progetto per le vie secchie e trebbia nuove caditoie e tubature più grandi per far defluire l'acqua. In consiglio il caso dei migranti al Residence Felicioni c'è un'interrogazione che sarà discussa nel Consiglio Comunale di Roseto che si terrà giovedì 25 dalle ore 15 proprio a Roseto l'ultima di fatto pagina della cronaca di Teramo ci porta nell'altro versante della costa Adriatica Silvio che ha variante fermata treni opere che attendiamo da anni due progetti sono stati inseriti nell'elenco degli interventi strategici stilato dalla regione sul Tessindaco Scordella queste due realizzazioni saranno al fiore all'occhiello della città Frana di Casoli bando per la progettazione Atri vicino alla fase finale per arrivare ai lavori da 4 milioni che dovrebbero iniziare fra un anno e poi a Pineto Jessica Martella l'assessore dei lavori pubblici la nuova segnaletica serve per la pista ciclabile sulla stadale Adriatica una fotonotizia che arriva anche da Atri Erbacce nel sito archeologico andiamo avanti col quotidiano il centro ci spostiamo nella pagina della cultura SOS al governo dall'Abruzzo dei comics festival del fumetto di Pescara Lanciano e Teramo con altri 23 esclusi dai fondi e poi un tema che d'estate visto che siamo in piena stagione estiva anche se non propriamente per quel che riguarda visto che l'estate entra proprio il 21 giugno fra due giorni Mister Italia 2020 e Missy Grand Prix la sfida torna in passerella prefinale e finalissima nazionale con Giosquillo a Pescara la pagina del cruciverba e poi ci spostiamo alla pagina dello sport la finale persa all'Olimpico falsa partenza Juventus Sarri nel mirino dei tifosi stiamo ancora parlando di Coppa Italia col campionato che di fatto riprenderà nella giornata di sabato con il turno di Serie B e i recuperi di Serie A Roma Petracchi l'addio è vicino la Fiorentina vuole Tiago Silva sospeso il DS giallorosso e poi la notizia che arriva dalla Pallannuoto ex campione della Prorecco muore a 47 anni Tibor Benedek leggenda della Pallannuoto la notizia invece che riguarda proprio il calcio quarantena soft c'è il via libera il campionato si concluderà circolare del governo con un passo avanti da parte anche del ministro dello sport Spadafora andranno in isolamento solo gli eventuali nuovi positivi Gravina soddisfatto altro passo avanti ma è frenata sull'intesa per trasmettere le partite fuori dalle pay tv diciamo che torna in campo anche la Serie B domani match contro la Juve Stabia per il Pescara le grottaglie cambia Pescara con il 4-4-1-1 Clemenza e Galano in avanti Drudi al centro della difesa e poi verso proprio il match con la Juve Stabia c'è il programma di domani che è dettagliato orario per orario perché di fatto tra le misure cautelative per quanto riguarda il gioco del calcio per la ripresa del campionato c'è il fatto che gli arrivi allo stadio siano scaglionati per esempio alle 15 c'è l'arrivo allo stadio alle 16 l'arrivo dei 4 arbitri l'arrivo della Juve Stabia in due pullman separati e alle 16.30 l'arrivo del Pescara 5 minuti più tardi così come l'ingresso in campo dopo il riscaldamento del due squadre sarà scaglionato e poi alle 18 il calcio d'inizio meglio alle 18.01 perché ovviamente ci sarà un minuto di raccoglimento per commemorare le vittime del coronavirus c'è il programma delle gare e poi una notizia di calcio direttanti Avezzano presenta Paciarella Capitanio il mister Guerino Capitanio alla Fontanelle al pari del DS Aurelio Massacci la cui ufficializzazione è stata avvenuta nei giorni scorsi calcio a 5 di Serie C Coppa Italia l'Atletico Silvi vince il ricorso la Corte d'Appello federale toglie il trofeo all'Antonio Padovani ci spostiamo al calcio diciamo più di casa nostra dopo quello del Pescara perché operazione attacco il Teramo prepara l'assalto ai playoff Serie C il tecnico di Mascio aspetta di conoscere l'avversario degli spareggi e spera nella riscossa dei suoi bomber sono i numeri che riguardano proprio l'attacco biancorosso oggi la squadra si sottopone al terzo tampone e con questo chiudiamo per quanto riguarda il quotidiano il centro ci trasferiamo al messaggero Covid ballano quasi 90 milioni spese per l'emergenza ritardi nei rimborsi e scontro con il governo l'assessore Febo attacca vogliamo certezze su tempi e tagli regione al lavoro per il cura Abruzzo 3 un quindicenne tenta il suicidio salvato in estremis dal 118 siamo a Roseto trovato dallo zio impiccato al lampadario della Cameretta proseguiamo con il quotidiano il messaggero andiamo alla cronaca di Teramo per quanto riguarda il messaggero eccoci qui Covid massima allerta per i contagi estivi pericolo in autunno in ospedale Varata Lucat che potenzia l'assistenza territoriale infermiere domiciliare e filtri per non portare il virus in corsia il direttore Lucat Pinto spiega che la regione è pronta per un'eventuale nuova ondata con 66 posti in terapia intensiva e 94 di sub intensiva di Giosia nuovo direttore ma lui smentisce tutto il giallo dell'incarico per quanto riguarda a Maurizio di Giosia che di fatto andrebbe a prendere il posto dello scomparso manager Roberto Fagnano molesta e insulta i commercianti preso arrestato un uomo di 46 anni di Pineto ha seminato il panico in città e ha aggredito gli agenti di polizia Valle Castellana strade inesistenti e danni da cinghiali e poi restiamo in provincia diciamo perché è Roseto allarme topi salgono anche sugli alberi del lungomare Giulianova per quanto riguarda la costa tenta di farla finita a 15 anni in coma ragazzino trovato dallo zio impiccato al lampadario della cameretta e salvato in estremis dai sanitari del 118 siamo sulla costa più che a Giulianova perché questa notizia arriva a Roseto anche se il padre era a lavoro a Giulianova scortato dall'auto della polizia fino a casa a Roseto dove abita con la moglie aperto un fascicolo al tribunale dei minori dell'Aquila e un'indagine alla procura di Teramo precipita dal balcone muore a 88 anni a Bellante poi fase 3 l'estate divisa per mesi tante idee per salvare la stagione addio a Don Giacomo Novelli parroco schietto autentico grande cordoglio a Martinsicuro funerale oggi alle 15 e 30 Atria licenziamenti legittimi accolti tutti i ricorsi dei dipendenti il giudice ha disposto i risarcimento per 16 operai per quanto riguarda lo sport Pescara notte prima degli esami oggi ultimo allenamento Palmiero è out al suo posto giocherà Castanos contro la Juve Stabia servono tre punti per allontanarsi dalla zona dei play out poi per quanto riguarda il Teramo Teramo da play off confida in Bombaggi l'attaccante dopo aver realizzato il record personale di centri si è smarrito Dimascio vuole recuperarlo a luglio staff e dirigenti questa volta sotto esame Pineto riconquista l'A3 dopo dieci anni parliamo di volle e poi due notizie che arrivano dai campionati direttantistici Vastese per la panchina Mister Silva o Agovino e invece a Chieti e Giglio il DS la protesta dei difosi stricioni contro la federazione nella notte di Coppa Italia dopo il messaggero andiamo alla quotidiano la città che come sempre in prima pagina parla di coronavirus andremo a vedere anche l'iniziativa della lettura 2.0 Covid la lotta si sposta sul territorio diventa operativa Lucat prevenzione e assistenza con col center sanitario raccolta dati e trattamenti mirati poi per quanto riguarda la fotonotizia in prima pagina un'automobile resta incastrata in una voragine a Villa Mosca strade pericolose proseguiamo col quotidiano della città entriamo nello specifico la campagna io leggo a casa oggi i protagonisti sono Gianni Di Giacomo Antonio sociologo e docente universitario e Gabriele Minosse sindaco di Cortino e presidente del BIM il bacino imbrifero montano possibile ondata in autunno ma siamo pronti il direttore da Mario parla di situazione confortante sarà un'estate caratterizzata da qualche focolaio nessun caso su 1477 tamponi analizzati come abbiamo detto in apertura e poi nuove risorse per sostenere la competitività delle aziende abruzzesi andiamo avanti col quotidiano la città con un articolo a firma di Veronica Marcattili la lotta al covid si sposta sul territorio diventa operativa lucat la prevenzione e assistenza con call center sanitario raccolta dati e trattamenti mirati si tratta di una rete strutturata capace di individuare precocemente i malati di covid-19 e prendenti in carico direttamente ai loro domicilio sanità abruzzese all'altezza della situazione lo afferma l'assessore regionale Nicoletta Verì e poi invece parliamo di uffici per quanto riguarda l'Inps a causa dello smart working portoni blindati per provincia Inps quasi impossibile far fronte alle necessità gli utenti aumentano la chiusura degli uffici mezzo dei vigili del fuoco resta bloccato in piazza Martiri il caso è successo nella giornata di ieri e poi ricostruzione incontro semplificatore tra Legnini e Borrelli proseguiamo col quotidiano la città via Capuani si torna a discutere di pilomat e scarico merci incontro tra amministrazione comunale e commercianti della zona ma non si riesce a trovare un accordo illegittimi licenziamenti all'atria accolto il ricorso e poi la notizia che ci descrive ci racconta un lutto si è spento il dolce sorriso di Elena di Pancrazio classe 1971 Teramana che da anni viveva a Roma ovviamente condoglianza alla famiglia Sant'Angelo preferisce il Mazzini il vice presidente del consiglio regionale si è espresso durante un incontro con il coordinamento ripetute fastidiose moleste ai cittadini ne arresto un 47enne di Pineto strade colabrodo auto si incastra nella voragine di Villa Mosca non si tratta di un caso isolato la buca è tornata a riaprirsi probabilmente a causa delle recenti piogge la cambiale in bianco invece è il titolo questa mattina della rubrica a ruota libera di Gustavo Bruno associazioni al tempo del coronavirus l'associazione madre Teresa si racconta nel quartiere annunziata promuove socialità integrazione nel nome della tolleranza il padre nostro un dio di tutti poi ci sono alcune pagine dedicate alla la salute e alla prevenzione l'attività di controllo degli alimenti di origine animale e dei loro derivati sono ben tre pagine che il quotidiano la città dedica a questo argomento salute e prevenzione la rubrica di ricette a cura di beniamino denigris e poi ci trasferiamo sulla costa in Val Vibrata la Vibrata fuori dalla zona economica speciale a lanciare il grido allarme il sottosegretario D'Annuntis che chiede aiuto all'assessore Febbo a Giulianova Piazza Dalmazia il comitato Lido chiede l'Umisis ancora troppo poco dei lavori che dovranno interessare l'area che chiude via Nazario Sauro per quanto riguarda ancora le notizie che arrivano questa volta da Atri Ferretti chiede il potenziamento dell'ospedale il sindaco annuncia la convocazione della commissione sanità e coinvolge i colleghi del comprensorio riapre i battenti anche la spiaggia dedicata ai cani siamo tornati a Giulianova Unica Bicce torna disponibile da domani nel rispetto di tutte le norme anti-covid Roseto lavori per il dissesto entro la fine dell'anno l'annuncio dell'assessore Tacchetti individuati i progettisti per gli interventi da 5 milioni di euro per quanto riguarda la cultura Galantini viaggio nella storia parla di Giulianova il nuovo libro dello studioso tra episodi inediti e personaggi e dimenticati di prossima uscita il volume sarà disponibile dai primi giorni di luglio e sarà pubblicato dall'editore ricerche e redazioni Egno Vetuschi un uomo per la musica il fondatore del Coro Verdi ha compiuto 93 anni ma il blocco per il coronavirus ha costretto a rinviare i festeggiamenti per lo sport Teramo con le primissime quanta fatica pochi successi con le squadre qualificate ai playoff per poter competere bisogna cambiare registro sport d'estate l'Atletica Vomano inaugura le sedi operative dei suoi centri estivi e poi lo spazio dedicato al centro sportivo italiano in e-bike sulle strade dell'itinerario Marriano una notizia in conclusione che riguarda praticamente un nostro collega a lutto a Giulia Nova per la scomparsa della professoressa Sofia Marcozzi in Gasparrini sorella del collega e direttore di Radio G Francesco Marcozzi a lui e alla sua famiglia le condizioni le condoglianze scusate della redazione del quotidiano la città ma anche ovviamente le condoglianze da parte della redazione tutta e dello staff da parte di Super J adesso dopo aver concluso la rassegna stampa ci fermiamo un attimo il meteo a cura di Marco Di Loreto un po' di pubblicità e poi parliamo di sport e nello specifico di Castelnuovo Calcio con l'addetto stampa Roberto Marchione che sarà collegato con noi Buon venerdì a tutti voi la pressione atmosferica in aumento al sud della penisola e le correnti fresche atlantiche tendono a ritirarsi verso nord questa situazione favorirà per oggi un tempo decisamente soleggiato e con poche occasioni per temporali pomeridiani sulle regioni centro-meridionali mentre al nord Italia la fase instabile proseguirà con temporali localmente anche di forte intensità che potranno manifestarsi anche sulla pianura padana guardando nello specifico la mappa riferita alla nostra regione ci attende un venerdì soleggiato al mattino con nuvolosità in aumento sui rilievi nelle ore centrali di giornata associata a occasionali temporali poche le possibilità di precipitazioni sulle zone collinarie e men che mai in quelle costiere la ventilazione risulterà debole dai quadranti occidentali ed il mare calmo quasi calmo le temperature massime della giornata saranno in leggero ulteriore aumento e comprese tra 22 e 27 gradi anche le minime in aumento e comprese tra 11 e 19 gradi per la meta è tutto buon proseguimento di giornata dopo la rassegna stampa il meteo e la pausa pubblicitaria torniamo in diretta con di prima mattina estate venerdì 19 giugno 2020 per la seconda parte è dedicata più nello specifico allo sport e io ringrazio abbiamo in collegamento via Skype Roberto Marchione addetto stampa del Castelnuovo Calcio amico e collega giornalista molti di voi lo conosceranno non solo ma anche scrittore perché poi nella parte finale ne parleremo Roberto buongiorno e grazie di essere con noi buongiorno a te Matteo buongiorno a tutti i telespettatori allora possiamo dirlo adesso manca solo la ratifica però il Castelnuovo ha conquistato la terza promozione consecutiva facendo un salto storico perché di fatto in serie di la formazione nero verde del presidente Giancarlo Di Flaviano e del padron Umberto Marini di fatto non c'era mai stata quindi un traguardo storico ma è la terza promozione di fila segno che c'era una programmazione dietro sì 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 è la terza promozione di fila dalla prima categoria fino alla serie D come ci tu è un salto storico perché è veramente storica questa serie D per il Castelnuovo che per la prima volta affronterà questa questa categoria appunto come dicevi manca soltanto la ratifica che credo arriverà col consiglio direttivo come ci hanno detto almeno del comitato regionale abruzzese appunto che si dovrebbe tenere questa sera che dovrà semplicemente ratificare quello che già è stato deciso a livello di consiglio direttivo della Lega Nazionale direttanti e quindi lo stanno facendo un po' tutte le regioni ecco a seconda di quanto dei tempi di quando si stanno riunendo e stiamo aspettando quello ma è praticamente la serie D ormai è decisa insomma per le prime classificate quindi nessuno potrà toglierci nulla l'unica discriminante se vogliamo chiamarla così che ci hanno detto in Lega che non riguarda chiaramente solo il test nuovo ma tutte le prime classificate dei vari campionati non solo in Abruzzo ma anche in Italia che quindi sono saliti di categoria e che dovranno verificare vedere comunicare se semplicemente saranno saliti di categoria quindi col diritto di poter disputare la categoria superiore di iscriversi della categoria superiore o se potranno anche considerarsi come avviene normalmente di solito in tempi normali quindi non di tempi con delle problematiche come è avuta adesso se potranno considerarsi appunto anche vincitrici dei vari campionati per quanto riguarda il camion d'eccellenza è stato di fatto sospeso bloccato congelato a sei giornate dalla fine dopo 28 giornate con il Castelnuovo comunque saldamente in testa alla classifica 66 punti più 9 sul Lanciano con un ruolino di marcia di tutto rispetto invidiabile 20 vittorie 6 pareggi 2 sconfitte di cui 2 sconfitte tra la parentesi casalinghe perché fuori casa sono 10 vittorie e 4 pareggi in trasferta solo 3 reti appena 10 in totale una squadra che andava di fatto meglio in trasferta che in casa a quanto pare ha ottenuto risultati straordinari però il ruolino diceva che questo sì 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 probabilmente è stato un caso perché il mister Guido Di Fabio e la squadra chiaramente giocano allo stesso modo sia in casa che fuori quindi cercando sempre la vittoria cercando sempre di dimostrare ciò ciò che si valeva come dicevi tu un ruolino invidiabile una difesa super probabilmente sicuramente tra l'altro una delle migliori difese d'Italia tra l'altro dalla Serie A fino alla terza categoria e quindi sì il merito è del mister il merito è dei ragazzi il merito di una grande difesa e di un attacco che ha saputo concretizzare ciò che di buono ha saputo fare la difesa insomma io ringrazio Pietro Baldassare in regia perché stava andando le immagini dello stadio Bonolis ma non perché stiamo parlando di tema perché lo stadio Bonolis proprio qualche settimana prima che venne sospeso tutto si giocò la finale di Coppa Italia tra parentesi un bello spot tra Torrese e Castelnuovo per il Castelnuovo forse non è una bella pagina perché alla fine vinse la Torrese però ovviamente anche la scuola Nero Verde arrivò anche in finale di Coppa Italia a testimonianza anche di un ottimo cammino nella manifestazione di fatto abruzzese qui passò in vantaggio la formazione del Castelnuovo con Fabrizi poi ci fu l'immediato pareggio e quindi la Torrese che vinse la Coppa Italia un'altra pagina comunque importante al di là dell'esito finale Sì sì una pagina importante tra l'altro complimenti a Torrese chiaramente per la vittoria della Coppa Italia ma comunque una grande gara comunque che disputò anche quella il Castelnuovo che come ricordo tu passò in vantaggio ecco poi ci fu l'immediato pareggio da Torrese e poi ci provammo fino alla fine diverse occasioni come si vede anche dalle immagini ma non riuscimmo più a sfondare questa clamorosa tra l'altro di Egidio e poi ai rigori ebbe la meglio la Torrese complimenti a loro sarebbe stata anche una bellissima cosa una bella doppietta campionato e Coppa Italia Torrese che tra parentesi vincendo la Coppa Italia è andata alla fase nazionale aveva passato il primo turno poi però è stato tutto sospeso e tramite la Coppa Italia fase nazionale la formazione del presidente Rondolone poteva evidentemente arrivare in Serie D ma la manifestazione è stata sospesa e quindi tutto congelato ora il campionato è stato sospeso il Castelnuovo arrivava da una sconfitta interna contro il Penne per 3 a 1 è più brutto o amarezza cioè amarezza in questo caso per aver perso l'ultima partita e poi non aver giocato più oppure il fatto di aver vinto di fatto il campionato manca solo ratifica e non aver potuto festeggiare sul campo beh sicuramente la seconda che hai detto perché diciamo che capita qualche volta si è verificato diverse volte insomma di perdere l'ultima gara e vincere comunque il il campionato mentre ecco poter festeggiare sul campo è tutta un'altra cosa noi abbiamo comunque festeggiato si era con tutti i ragazzi però è tutta un'altra cosa poter festeggiare sul campo ecco proprio al risultato acquisito festeggiamenti sobri con assembramenti oppure perché l'OMS ha praticamente condannato i festeggiamenti del Napoli i tifosi del Napoli per quanto riguarda la Coppa Italia hanno abbattuto ovviamente la mia sì 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 no no chiaramente festeggiare di sobri una piccola cena tra di noi semplicemente per dare il giusto merito ai ragazzi ovviamente abbiamo detto manca solo la ratifica ma il Castelnuo è da considerarsi a tutti gli effetti nel campionato di Serie D dove troverà altre formazioni abruzzesi e Terramani in questo momento non troverebbe Avezzano e Chieti perché sono state retrocesse ma staremo a vedere in questa lunga estate cosa succederà perché hanno le due formazioni hanno già presentato ricorso però dicevamo il Castelnuo che è società particolarmente ambiziosa ha già mosso i primi passi per quanto riguarda il futuro perché sono state confermate le cariche dello staff tecnico ha confermato il mister Guido Di Fabio il suo vice Paolo Ferretti è stato confermato lo staff con il responsabile dell'area tecnica Claudio Cicchi e il preparatore dei portieri Biaggino Medori e al preparatore atletico Steve Sarcinella che è con Guido Di Fabio da diversi anni già all'epoca del Martinsicuro c'è una nuova giunta che possiamo vedere dalle immagini che ci sta mostrando tempestivamente Pietro Baldassarri in regia della conferenza stampa di mercoledì mattina perché abbiamo visto anche questo è il presidente questo è il nostro direttore Alessandro Di Emidio c'è un nuovo ingresso già subito a far parte dello staff tecnica e che ingresso perché parliamo di Maurizio Di Renzo preparatore atletico che per tanti anni ha fatto la C ma soprattutto anche la B e la A ricordiamo le esperienze col Cagliare e con il Livorno sì sì penso che è stato giusto fare così cioè per costruire una buona squadra che è una squadra che voglia provare a far bene subito anche nella nuova categoria poi quanto bene chiaramente lo dirà il campo lo diranno i giocatori che si riusciranno scendere in campo la squadra che si riuscirà a allestire però per fare bene chiaramente conta molto penso e chiaramente i dirigenti sono sulla mia stessa lunghezza d'onda visto come stanno agendo come hanno agito l'anno scorso conta molto anche il dietro le quinte quindi ha uno staff già molto importante già molto qualificato con il DS Claudio Cicchi con il mister Guido Di Fabio il suo vice Paolo Ferretti il preparatore di Costi di Sarcinelli il preparatore dei portieri Biagino Medori abbiamo voluto il Castelnuovo Romano ha voluto rafforzare ulteriormente questo staff per renderlo pronto per questa serie D aggiungendo un altro preparatore atletico Maurizio Di Renzo che non ha bisogno di presentazioni 19 anni ininterrottamente tra i professionisti di cui 7 in serie A direi che per la serie D è veramente un lusso per quanto riguarda la squadra comunque gli obiettivi della prossima stagione parliamo di una società che già l'hanno passato in eccellenza nonostante un organico già di assoluto valore nella finestra di mercato di dicembre aveva provato a portare già dei tasselli molto importanti per quanto riguarda gli obiettivi futuri già si parla ecco il primo tassello è già può dire molto però nel senso quali saranno i progetti e ambizioni? il progetto l'ambizione ne parlavamo ieri sera sicuramente è quello di riuscire a fare anche un buon campionato anche in serie D poi quanto buono lo dire il campo sicuramente chiaramente l'obiettivo primario è mantenere chiaramente la categoria quello non c'è ombra di dubbio poi chiaramente cercare di fare la nostra figura di far bene ecco ora il direttore Cicchi sta già lavorando sulle pedine sui tasselli da inserire sui ragazzi sui giocatori da da conservare o da lasciare andare via siamo fiduciosi sappiamo che saprà sicuramente fare un buon lavoro e costruire una squadra che potrà disputare un campionato che ci potrà far togliere delle soddisfazioni prima di parlare anche di altro perché con Roberto possiamo parlare veramente a 360 gradi del calcio restando sempre a Castelnuovo c'è un problema te lo chiedo perché magari si è parlato nelle scorse settimane ma non c'è ancora certezza c'è un problema legato al campo sportivo allo stadio problema tra virgolette nel senso non lo definirei problemi in quanto già chiaramente il campo sportivo allo stadio non ha le dimensioni per disputare la serie D ma già si sta si sta lavorando insomma si era già messo in cantiere in progetto di farlo da mesi e già lo si sta facendo si sta male che va che non si sarà pronti quando iniziere il campionato si darà una deroga che sarà concessa come avviene sempre per il primo anno ma si sta lavorando per ingrandire il campo costruire costruire anche un'altra tribuna per permettere la differenziazione tra i tifosi di casa e quegli ospiti quindi diciamo proprio un'altra virgolette problema che non esiste perché già si sta lavorando per poter adeguare il campo da questo punto di vista mi viene in mente che la giornata di oggi come dicevi in apertura potrebbe essere importante perché se viene ratificata come vittoria del campionato ottenere la deroga sarà più facile come nel caso del Matelica nel campionato di Serie C sì probabilmente sì sarà più facile ma credo da quello che abbiamo capito che è ciò che stanno cercando di fare che vogliono un po' tutti anche in Lega non semplicemente per il calcio ma un po' per tutte le vincitrici dei vari campionati per tutti coloro che sono sono saite di categoria nei vari campionati anche perché sarebbe fondamentalmente giusto insomma una volta saite di categoria poter sfreggiare anche del fatto di aver vinto il titolo vedremo come andrà stanno valutando con i loro uffici legali ripeto è una questione che riguarda un po' tutti i vari comitati regionali non solo quella abruzzese invece con te prima ancora che è dell'ufficio stampa del Castelnuovo Roberto Marchione è un profondo conoscitore del calcio dilettantistico abruzzese non solo ovviamente il fatto di aver sospeso i campionati ha bloccato un po' tutto però le decisioni prese dal comitato ovviamente la prima la promozione poi retrocessione per quanto riguarda l'ultima e invece il blocco nel campionato di promozione è questa possibilità paventata di più gironi di eccellenze e promozione del prossimo anno perché ovviamente le squadre sono cresciute ovviamente parliamo dell'attuale perché poi magari le squadre non si riscrivono oppure Avezzano e Chiede vengono ripescate quindi parliamo dello stato attuale come la vedi? Eh la vedo che adesso si dovrà verificare sinceramente non mi sono ancora fatto i calcoli per quanto riguarda le ripescate perché proprio ieri pomeriggi ieri sera il comunicato della lega nazionale direttante con la quale stabilisce i criteri e cioè che chiaramente degli degli otto posti non sette perché sono sette che erano quelli degli spareggi più quello della Coppa Italia che non sarà assegnato alle squadre che erano arrivate avanti in Coppa Italia purtroppo per la Torrese che avrebbe potuto sperare in quel modo ma saranno decisi tra le seconde classificate che stabilisce questa decisione della lega nazionale direttanti e tra l'altro non verranno scelte in base a graduatorie con punteggi su su varie cose come accade di solito per i ripescaggi ma semplicemente per con la media punti ottenuta fino a questo momento ecco quindi basterà semplicemente fare una media punti ottenuta fino a questo momento di tutte le squadre seconde classificate e basta in eccellenza per vedere quali saranno le squadre che accederanno al prossimo campionato di serie D tramite tra birguette ripescaggio perché comunque erano i posti riservati alle squadre che erano arrivate secondi che erano dovuto fare poi i playoff nazionali e che dovrebbero essere se non sbaglio sette posti a disposizione perché erano sette più uno della coppa iniziale otto a cui bisogna toglierne due che sono riservati alla basilicata e al piemonte in quanto al momento dello stop c'erano due squadre al vertice della classifica appaiate quindi entrambe accederanno alla serie D e quindi si scende a sei però poi c'è un posto in più perché il Bustarsizio che aveva vinto il campionato Lombardo ha rinunciato ha dichiarato fallimento e ripartirà dalla terza categoria e quindi ci saranno sette posti a disposizione ancora non ho fatti i calcoli per vedere se il Lanciano nel caso Abruzzese sia tra quelle sette squadre poi chiaramente se si libereranno altri posti per squadre che non si iscrivono come accade un po' ogni anno a quel punto poi entreranno in gioco anche le squadre retrocesse esisterà una gradatoria in base al merito sportivo in base a vari valori che poi dichiareranno insomma non ce ne vogliano le squadre abruzzese in particolare Avezzano e Chieti che abbiamo detto hanno già presentato ricorso per ovviamente contro la decisione del Consiglio federale della retrocessione ma per gli appassionati di calcio si prospetta un'eccellenza soprattutto sarà girone unico davvero fantasmagorica Avezzano Chieti Lanciano e l'Aquila tra le altre torrese varie formazioni Sì infatti se non venissero ripescate si prospetta un'eccellenza veramente di livello assoluto un'eccellenza stellare come c'è di tu con Avezzano l'Aquila Lanciano Chieti la stessa torrese squadre che negli ultimi anni fanno sempre bene come lo Spoltore il San Busceto l'Alpatriatica anche perché no e tante altre anche se ancora non è ufficiale ma quasi sicuramente anche in questo caso si andrà verso un'eccellenza a due gironi verranno ripescate credo almeno la seconda e terza di ogni girone di di promozione e quindi in caso di nessuna squadra che salisse in Serie D tramite ripescaggio comunque si avremmo due gironi da 12 squadre di eccellenza questo come dichiarato dal Presidente Ortolano proprio per avere una formula un po' più snella perché un'eccellenza a 20 squadre sarebbe veramente pesante tenendo conto che tra altro si inizierà credo nella prima metà di ottobre con l'eccellenza e la finale dei play-off se non erro deve essere risultata più o meno entro la metà di maggio un'eccellenza girone unica a 20 squadre significherebbe dover giocare praticamente compresa la Coppa Italia tutte le settimane due volte a settimana sarebbe forse un po' troppo pesante sì certo alletta un po' l'idea di un'eccellenza super con tutte queste squadre di altissimo livello sarebbe veramente un grande spettacolo però magari anche di Gironi lo spettacolo arriverà più avanti veramente poi le prime quattro suppongo che farebbero i play-off avremmo una fase finale stile basket dal grande spettacolo con tutte le grandi squadre quindi credo che sarebbe una bella cosa anche così lasciamo da parte il calcio per il momento perché Roberto Marchione è anche autore della collana sulla storia di Atri per adesso due volumi sono andati di fatto in archivio la storia di Atri durante il Ducato Acquaviva e i documenti inediti di Nicola Sorricchio durante questo periodo di grazie alla regia fantastica da parte di Pietro Baldassare che ci postra subito questi due volumi durante questo periodo di stop di coronavirus le ricerche sono andate avanti come procedono durante questo periodo di stop avrei voluto era in programma di fare di più purtroppo ha colpito anche me questa pandemia nel senso che non fisicamente chiaramente ma dal punto di vista lavorativo perché ero proprio nel momento in cui è stato richiuso tutto ero nel pieno del periodo in cui andavo in giro per le varie biblioteche archivi per per reperire i dati per per costruire il terzo volume che già stavo iniziando stavo facendo insomma e quindi purtroppo già in programma avrebbe riguardato e riguarderà chiaramente il il medioevo di atri fino al fino al 1400 fino all'inizio dell'era degli acqua viva ecco però purtroppo queste chiusure mi hanno mi hanno impedito di di poter accedere alle biblioteche e agli archivi e quindi ho dovuto stopparmi e rimandare a tempi migliori insomma a tempi in cui si poteva fare si potrà fare la pubblicazione di questo libro che altrimenti sarebbe stata prevista per per questo agosto e adesso invece ecco purtroppo per inviare vedremo se se farla per questo inverno o rimandarla direttamente all'estate prossima io Roberto ti ringrazio intanto buon lavoro per queste pubblicazioni buon lavoro per l'ufficio stampa del Castelnuovo complimenti ancora alla società Nero Verde ovviamente nelle prossime settimane arriveranno comunicati conferenze perché la società è molto attiva staremo a vedere buon lavoro buona giornata ti ringrazio e a presto io ringrazio soprattutto l'ufficio è quello di verci sui campi sì sì sicuramente sarà bello vederti sui campi sui campi ti ringrazio saluto te buon lavoro a te un saluto anche a tutti i tre spettatori grazie a Roberto Marchioni ringrazio davvero Pietro Baldassarre in regia c'è solo il tempo veramente per ricordarvi gli appuntamenti le due edizioni in diretta del TG alle 14 e alle 19 e l'appuntamento alle ore 21 con la rubrica in prima linea una buona giornata a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.